Buongiorno e bentrovati dalla sala operativa dell'ufficio di Ricondagliare Marittimo di Pantelleria per questo primo appuntamento con l'informazione marittima. Cominciamo subito con le previsioni meteo per questo fine settimana. Da domani, venerdì 10 luglio 2020, il mare sarà calmo o quasi calmo, con cielo sereno e venti deboli, buona la visibilità. La tendenza per le successive 24-36 ore prevede venti deboli con cielo sereno e mare calmo. Quest'oggi ricordiamo che, secondo l'ordinanza di sicurezza a balneare, i primi ciclo prevede dalla costa sono riservati alla balneazione, per cui in questa zona è evitato il transito, l'ormegge e la sosta di qualsiasi imbarcazione, compresi quindi surf e kitesurf. Tane vite si estende fino a 100 metri dalla costa, realizzata e interessata dall'istesto ideologico, di cui è l'ordinanza 44-2012 di questo ufficio. Le unità a motore che volessero raggiungere la riva devono utilizzare esclusivamente i corridoi di lancio, facilmente individuabile perché è delimitato da quell'interno di colore giallo. È importante raccomandare che all'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione e che le unità a motore appena devono attraversarli con la massima prudenza a una velocità non superiore ai trenori, evitando in ogni caso di disturbare i bagnanti con fuori di scarico. In particolare, oggi vi segnaliamo che per tutta la stagione estiva, fermo restando quanto più visto dalla normativa sulla pesca marittima, nelle acque riservate alla bagnazione e in genere frequentate ai bagnanti, dalle ore 8 alle ore 20, è vietato esercitare la pesca con qualunque attrezzo possa costituire pericolo. Per le altre informazioni è possibile consultare il sito istituzionale della Guardia Costiera all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it oppure telefonicamente allo 0923 911 027. Ricordiamo infine che per l'emergenza a mare è attivo sempre 24 ore su 24 il numero gratuito blu 1530 che potete contattare per qualsiasi emergenza a mare, sia da fisso che da cellulare. Con questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona giornata e una buona stessa insidenza.